ben ritrovati e un saluto da federico napoli un saluto particolarissimo e speciale per i soci anla il video di quest'oggi si titola un leone e una vacca e racconterà brevemente la storia di uno dei palazzi più famosi di firenze palazzo vecchio il palazzo che da sempre da 700 anni da quando è stato inaugurato all'inizio del 1300 ospita il governo della città chi fu l'architetto arnolfo di cambio l'autore anche della cattedrale fiorentina santa maria del fiore della cerchia muraria della basilica di santa croce arnolfo ebbe un'indicazione precisa da parte della repubblica non costruire su terra ghibellina ecco dove oggi si trova piazza della signoria in effetti prima della costruzione del palazzo c'era un quartiere molto frequentato dalla parte ghibellina c'erano abitazioni e torri in particolar modo degli uberti trionfante la parte guelfa queste case e queste torri degli uberti vennero abbattute e l'indicazione ad arnolfo fu di non costruire il palazzo su terra ghibellina perché terra maledetta arnolfo rispettò il segnale l'indicazione ma mantenne una torre torre dei foraboschi erano guelfi inglobandola nel suo palazzo utilizzandola come base per la torre che lui pone realizza aggiunge al palazzo la cosiddetta torre di arnolfo utilizza la torre dei foraboschi come base per la sovrastante torre il palazzo viene costruito per i priori per ospitare i priori erano sei e venivano eletti ogni due mesi pertanto il palazzo inaugurato probabilmente intorno al 1315 quando arnolfo è già morto da alcuni anni all'inizio venne chiamato palazzo dei priori successivamente nel tempo cambiato il governo da popolare ha in mano finito in mano a una oligarchia cittadina venne chiamato palazzo della signoria quando cosimo dei medici con la moglie eleonora di toledo ambe due duchi si trasferirono in lui utilizzandolo come propria abitazione il palazzo venne chiamato palazzo ducale quando poi cosimo ed eleonora passarono l'arno e andarono ad abitare sulla riva sinistra in un palazzo che oggi noi chiamiamo palazzo pitti il palazzo appena lasciato diventò automaticamente il palazzo vecchio tantissime sono le curiosità al suo interno e le sue particolarità dal piccolissimo microscopico apparentemente senza finestre e senza porte studiolo di francesco al grandissimo salone dei cinquecento dove veniva accolto il consiglio generale della repubblica ma anche il salone dei duecento seppure dimensionalmente minore ha una dimensione e ricorda le storiche riunioni del consiglio della repubblica ricordo che c'è una grande sala detta delle carte geografiche la sala del guardaroba dove compaiono 57 carte geografiche che nella fine degli anni ottanta del 1500 illustrano geograficamente il mondo allora conosciuto ed opera di stefano bonsignori e in questa sala delle carte geografiche all'inizio del 1600 venne collocato un mappamondo di egnazio danti che in quel tempo era il più grande esistente sulla terra ma poi tutto il palazzo presenta curiosità e particolarità dalle fondamenta che celano ma rendono visibile i resti del teatro romano di epoca imperiale fino 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 alla cella campanaria della torre di arnolfo posta a 94 metri di altezza e in quella cella compaiono tre campane di cui la più nota è la cosiddetta martinella la campana che un tempo suonando chiamava raccolta il popolo e che oggi suona solo in situazioni del tutto particolari legate alla vita della città di firenze alla base della torre di arnolfo c'è un orologio opera di giorgio lederle datato 1667 ma montato da vincenzo viviani il più giovane discepolo di galileo galilei ma perché quel titolo un leone e una vacca occupiamoci della seconda quella torre dei foraboschi che arnolfo mantiene come base della propria torre civica veniva chiamata torre della vacca come mai forse perché si è ipotizzato l'esistenza di una famiglia dei della vacca a firenze ma francamente ci sono labili tracce in questo senso può darsi sia più convincente il fatto che la torre era messa sul tragitto che i buoi dovevano fare per essere portati al macello e il leone sopra la cella campanaria c'è una copertura cuspide che termina con il giglio dorato di firenze ma anche termina con una banderuola a cui è appeso un leone rampante che rimanda quindi al popolo al simbolo del popolo fiorentino e questo leone essendo una banderuola si muove secondo il vento e interpretando i venti si può intuire quale possa essere l'evoluzione atmosferica legata alle stagioni e nel nato un detto quando il leone piscia in arno le acqua vi ringrazio di avermi seguito anche in quest'altra nuova breve visita ad un angolo della città di firenze e da parte mia da parte di federico napoli un saluto